Buon velo qui a favorire a Teburra da parte di Pessina, prende palla a Teburra, arriva sul fondo, al centro c'è Barrow, servito lui, con la mano male Pavlovich, e Barrow spinge in porta, il gol del 6 a 0. Gomez, Freuler, molto vergo Masiello, il primo palo da palla, passa comunque, poi a Teburra, una sul sinistro, tira a Teburra, e riesce così l'Atalanta a pareggiare con Hans, a Teburra, cerca l'astro, bello a Teburra, controlla a Teburra, Pasalic arriva come un treno a destra a Teburra, l'ha vista adesso Pasalic, lo fa correre, bella palla, Barrow al limite c'è Pasalic, a Teburra, forte per Barrow. Aiuta Gosens, Gomez crossa bene sul secondo palo, arriva la botta di Ateburra, 2 a 0 per l'Atalanta, Hans, a Teburra, ci ha preso gusto, dopo il gol all'Europa-Libbio, segna anche il campionato, contro l'Avo e l'Aifa, il primo gol con l'Amede dell'Atalanta, oggi il primo gol in Serie A per Hans, a Teburra. Il Folloi, seguita di cross, a Teburra, ancora lui è la conclusione, l'Amede dell'Atalanta è trasformato, Gomez contro Ankers, la mette al limite, a Teburra, il gol su sinistra, deviazione, ancora con in un soffio. Lì vicino c'è Freuler, Castagna lo serve, un'occhio e mezzo, parte il cross per Zapata sul secondo palo, c'è a Teburra che la mette sopra la traversa. Lì vicino il dirigente dell'era, 4-9 al secco, lì vicino c'è, vedrà ancora l'ampo alla sua cilindro, a teburra, a teburra e mezzo, Solentino respinto. Parte il cross sul secondo palo, c'è Bruno Alves, rimette palo e mezzo, in tuffo di testa a Teburra, ancora calcio d'ango. Che ronna. A Teburra gioca su Skorupski, che... Gondes è accompagnato anche da Freuler, può allargare per Zapata che prepara il destro, che arriva ora a Danovic, le spinge su a Teburra. Molta bene Zapata, poi Ilicic, ancora ottimo slalom, apertura per Gonsens, che fa cross passi sul secondo palo. A Teburra, Atalanta in vantaggio, Gonsens attiva l'auto esterno che arriva e trafinge, Foscora, Andano. Passa e mezzo a quattro, Ilicic, fraseggio dello stretto, ancora un colpo di attack, illuminante, a Teburra, Maglietta e poi Freuler. Passa l'Atalanta, che arriva il Freuler. La rincorsa è lì, Caputo. Si stampa sulla traversa, la speranza di pareciare dell'Empoli. Si resta, 1-0 per l'Atalanta, adesso riparte, mi ricordo solamente che tu va a Zapata. Dall'altra parte Gomez, a Teburra, arriva anche Ilicic. Uno contro uno di Zapata, che risolienta le serie per i cross, in mezzo al secondo palo. 2-0 dall'Atalanta. A Teburra ha fatto tutto il campo per andare a chiudere l'azione e ha fatto di nuovo un po' di lui, incredibile. Sale con lui a Teburra, in mezzo c'è solo Zapata, il tocco invece per Barro, Barro, il dribbling di Barro, la palla rimane lì, Zapata. Prima ovviamente però il gioco fermo, qui, palla recuperata da Teburra e due contro due. A Teburra, contro Noitec, A Teburra, il dribbling e poi l'appoggio per Zapata. Fate lancio per Correa, grandissimo recupero da parte di A Teburra. L'arco a dentro da Teburra, ancora una volta da Teburra seguita. Siamo arrivando molti balloni, il tempo 3 a 3 di 4. Barro, bello il tocco per Gomez, attenzione a Gomez che va al tiro, Gomez al limite, Gomez, Gomez, Gomez a rete! Cone, Valgrosa, Cercarini, Cercarini, Cercularco, A Teburra, Ponte, Zapata! Boom, boom, boom! Cross, A Teburra, il dici po'. Controppiede Roma, a parte Dzeko, c'è Zagnolo largo, il tocco per il Ciarawi che può puntare l'avversario. Il Ciarawi, bata sul destro, è stato bravo a chiudermi la linea di tiro a Teburra. Gomez, fra Castagna, si punta dentro, Gomez morbido, A Teburra! A Teburra! Ilicic, A Teburra, inizia la sua corsa, allunga il passo, non gli sta dietro il Ciarawi. A Teburra, guarda dentro, buono il cross, Gomez di prima, Ilicic! Incredibile! Passiva l'Atalanta, A Teburra va a rubar palla, supera Kolarov, un'altra marcia, A Teburra la mette dentro, Ilicic ce la controlla. Palla dentro! A Teburra! È stato uno dei protagonisti di questo secondo tempo per l'Atalanta. Froyler va per via centrale invece, allunga ancora Froyler, il tocco di Pasalic per Castagna, zona buona per il cross, lo effetto a Castagna! L'Atalanta in vantaggio con A Teburra! Uno a zero dopo cinque minuti! Hans A Teburra! Quarto gol in campionato! Lancio profondo con A Teburra che ci arriva, attenzione in mezzo a Zapata, 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 Zapata! Ancora Zapata! Per Gomes, uno contro uno con Milenkovic, il cross per A Teburra, che non arriva puntuale. Il cross dalla parte opposta dove arriva A Teburra per il colpo di testa che colpisce la traversa! Cerca di scuotersi l'area col papo Gomes che va ad A Teburra, in mezzo passo per Zapata, che si torna di lì, Ilicic ce la fa correre A Teburra, il cross è basso attraverso tutta la porta! Incredibile salvataggio da parte di Sala che ha evitato l'1 a 0 di Gossens. Non si ferma, Ilicic ce la fa sempre per A Teburra che spara in mezzo a un tiro, smanaggia! E poi trova un gol pazzesco Gossens, praticamente senza angolo, di sinistro, Roby Gossens riporta avanti l'Atalanta! Contro due, quindi è A Teburra che se ne va, effettua un buon cross, area di rigore, attenzione a Gomes, stop e tiro! Ribatte il portiere, Zapata anticipa! Lo attacca Barba che riesce a mettere in fallo laterale, subito Pasaric con le mani a cercare A Teburra di usse! Arriva prima per A Teburra, di forza A Teburra, Zapata, area di rigore, Zapata, 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 esce il portiere, Zapata! E' sempre un barco per il Papu Gomez che in tunnel se ne va, Zapata riceve, prova a chiudere il triangolo, non con Gomes ma con A Teburra che arriva a tirare in spaccata, deve intervenire sempre, calcio! Cerone ancora per Ilicic, attacca lo spazio a Teburra, palla di trocare A Teburra, in area di rigore, patta il tiro a Rente! A Teburra, il Bologna non c'è, l'Atalanta è meravigliosa! Ad accompagnare Ilicic, che qui delizia ancora con quella che in Spagna chiamano coda di vacca, per A Teburra, galoppa l'olandese, arranca Cagliardini, palla a rimorchio, al centro per Gomez, anticipato da Poli... Gomez, il lancio perfetto per Ilicic, in mezzo! Cosa, sbagliata A Teburra! Parte in mezzo a due, Ilicic, poi la sterzata, l'assist per A Teburra, che prova e tiro! La posizione è libera, Ilicic, Gomez invece va in mezzo, il colpo di testa, la palla rimane ancora lì! Stregata la porta oggi per Hans, A Teburra! C'è spazio per A Teburra, ingresso in aria, c'è dentro Zapata, il cross per lui! Mette la punta, ma non trova il pallone! Lo tiene vivo Gomez! Freuler! L'alza ancora sul secondo palo, Zapata, spalla la porta, Zapata prova a girarsi! Dentro da A Teburra, che cerca il cross Gomez! Poi inciampa sul pallone, ma può giocarlo Gomez che va all'attiro, Spina! Poi il colpo di testa di Zapata, rimane ancora in attacco l'Atalanta con A Teburra! Forse l'attocco Spina! Il secco di Zelischi può aprire assista per Fabio Ruiz, grande giocata, c'è Mertens libero centralmente, palla per lui, in area di rigore, Mertens, gran recupero sul pallone di A Teburra! Bello, eh? Sì! Palla piena, pulito! A Teburra, si è già piazzato all'interno dell'area di rigore, e Zapata, Ilicic, di ritorno per A Teburra! Pali in mezzo, Zapata! Ha pareggiato l'Atalanta, Duvan Zapata, 1-1! Con Ljusay che non riesce a contenere la forza fisica di A Teburra, che la mette di prima intenzione! Gomez, c'entra in pieno the ball, poi Freuler, deviazione, secondo palo! La palla è sul fondo, ci ha provato A Teburra! Sul primo palo, Gomez va lì, prolungato, scese in da Puri in pallo! E non riesce a metterla dentro, da due passi a Teburra! Quadrato forte sul secondo palo, A Teburra! Come nel primo tempo, da lì, la mandata altissima, questa volta rischiando l'autogol! Here we come to the page! Come some! Come some! Grazie a tutti